Nella serata di ieri, Daniela Lorusso, nota come Lady Kumadin, detenuta nel carcere di Castrogna a Teramo, ha tentato il suicidio provando a innalare gas da una bomboletta tipo camping, in uso ai detenuti per riscaldare le vivande. La donna, ricordiamo, protagonista di diverse vicende giudiziarie, prima fra tutte quelle relative al tentato omicidio del secondo marito, per la quale è stata condannata a 13 anni e 8 mesi di carcere. Attualmente la Lorusso è detenuta nel carcere di Teramo, ma per un'altra storia, quella che riguarda la distruzione dei fascicoli del processo che ora pende in appello sul tentato omicidio. La detenuta ha posto in essere questa sceneggiata, perché non è la prima volta che tenta o pone in essere tentativi suicidari o comunque destabilizzanti per l'ordine della sicurezza, per attirare l'attenzione della tutela giudiziaria al fine di ottenere una misura alternativa al carcere. Le agenti di polizia presidenziali di servizio prontamente sono intervenute, strappando di dosso dalla testa il sacchetto di plastica e chiamando il medico di guardia, che comunque fin dalle periodi dei primi momenti si era subito resi conto che quel tentativo non poteva essere portato a termine per le modalità in cui le aveva fatte. La detenuta comunque a scansa o dei chimici per la sua salute è stata portata all'ospedale dove è rimasta ricoverata per accertamenti. Il carcere Teramano di Castrogno ha la situazione abbastanza tranquilla, anche se c'è da registrare che come sempre il cronico sovraffollamento dei denuti ad oggi pare a 100 denuti in più e la cronica carenza di personale che ad oggi registriamo circa 50 unità in meno. Quindi rivolgiamo un appello all'amministrazione centrale del Dipartimento e in particolare al dottor Carmelo Cantone, provveditore regionale alle carceri, affinché si adopri di ridurre sovraffollamento carcerario di almeno 50 detenuti al fine di permettere a noi operatori di poter lavorare in sicurezza e di porre in atto tutte quelle misure trattamentali nei confronti dei detenuti.